Ciao a tutti, io sono Gesualdo Busacca, sono un archeologo, antropologo, traduttore e un ex allievo della Scuola Superiore di Catania, come potete vedere da questa maglia che porto orgogliosamente. So accettato volentieri l'invito da parte della scuola a offrire un mio modesto pensiero riguardo alla situazione di crisi che stiamo attraversando. Cercherò di fare una breve riflessione che terrò sotto i quattro minuti, si spera, sull'importanza di utilizzare la testa, ma anche di utilizzare le mani, anche e soprattutto utilizzare le mani. Per gli studi che ho fatto, chiaramente in questa situazione sono più portato a utilizzare la testa ed è importante farlo, è soprattutto importante fare una sana autocritica nei confronti del nostro stile di vita e di come questo ha, come dire, influito sulla crisi che stiamo vivendo oggi. Gli scienziati ci ricordano in questo periodo più che mai come lo sconvolgimento di ecosistemi naturali, come le foreste, può scatenare delle epidemie e poi pandemie come quelle a cui stiamo assistendo oggi, che stiamo subendo oggi. E' anche, appunto, anche molto importante come certe modalità di vita all'interno di comunità urbane densamente popolate, in zone in cui l'inquinamento atmosferico è a livelli molto alti, come nelle zone in cui la pandemia sta mietendo più vittime, come la pianura padana, l'area di Wuhan in Cina, la zona di New York negli Stati Uniti. E quindi è importante anche fare autocritica su come certe modalità del nostro vivere ci rendono più vulnerabili nei confronti di queste catastrofi che noi stessi abbiamo contribuito a costruire, a creare. E vengo invece al secondo punto, più importante, quello di usare le mani. Sto vedendo con piacere come molte persone durante questo periodo stanno riscoprendo una manualità che avevano in parte dimenticato. Fare il pane, disegnare, autoprodursi il sapone, sono tutte modalità bellissime per utilizzare le mani e la creatività e creare una società e un mondo in cui ci sia meno bisogno di... si sia meno dipendenti da paesi lontani per approvvigionarci delle materie prime. Io, per esempio, in questo periodo mi sto dedicando molto all'orto e al giardinaggio. Se vedesse da vicino le mie mani, vi sembrerebbero molto poco quelle di un intellettuale. e trovo il prendersi cura della terra e delle piante una maniera stupenda per contribuire al proprio benessere, sia fisico, prodursi il proprio cibo e mangiare cibo buono e sano, ma anche psicologico. È veramente una terapia che consiglio a tutti e non riesco qua a elencare tutti i benefici. Ma credo che la lezione più importante che le piante ci insegnano in questo periodo è proprio quella di radicarci. Radicarci proprio in questo momento in cui ci si può spostare poco e la nostra mobilità è ridotta. Quindi impariamo a radicarci non solo alla terra che rappresenta veramente quello che è essenziale per la nostra sopravvivenza ma anche al territorio. Per me radicarci al territorio, per me che ho tanto viaggiato e che ho vissuto per anni in America, in Turchia e in giro per il mondo per me radicarmi non solo alla terra ma anche al territorio significa creare delle comunità che siano il più possibile autosufficienti che si aiutino tra di loro e che producano quello che ci è necessario per la nostra sopravvivenza. Questa è un po' l'idea alla base del nuovo progetto che ho cominciato insieme a Stefania Corallo che si chiama Cucunci Rural Hub, in quel di noto che è un centro rurale in cui ci occupiamo di autoproduzione di cibo autoproduzione in generale, autosufficienza energetica, cura delle relazioni, comunicazione non violenta, facilitazione e tutte queste pratiche che ci possono aiutare a costruire il nuovo, a costruire il futuro con la mente ma anche e soprattutto con le mani. Ho un po' sforato, perdonatemi, vi mando un grosso abbraccio. Ciao a tutti!